musica ho 120 fps impicchiata sul rozzock raga penso di aver fixato io non ho visore raga io ce l'ho da qui da qua gli vedi il piede gli vedi il piede vado? vai continua a muoverti no ci sono gli altri scendi giù ritorna giù fermo non cade uno cazzo sono lontano sto arrivando giù l'altro non lo so ma non so da dove andare ce l'ho qua davanti ce l'ho qua davanti aiutami edu l'ho visto di nuovo qua sotto dopo le rocce si 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 fai due uuuu ragazzo lo headshot ho fatto cazzo è morto che palle però vieni 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 tranquillo noccato uno ma chi ha dietro di noi aspetta 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 non ingacciatevi un attimo continua a venire verso di me si noccato un altro torretta sniper vai morti eh non ci credo ti ha sparato ti ha sparato ti giuro oh guarda ti prego guarda di quest'ultima azione che ho fatto ho fatto il possibile ti giuro ti giuro ti giuro cioè non è cattiveria ma qua ho fatto veramente il possibile a sud proprio lo vedo uno ti ha in testa quello col casco al 3 c'è uno con un casco al 3 wash c'è un tipo steso dietro una macchina rotta a sud raga close ecco sta sparando al tipo non lo vedo non mi sta sparando ce l'hai vicino te l'ha chiamato giù quello della macchina è giù eh finisci lo edu è giù quello della macchina eh vado da uova vado da uova raga c'è uno che crossa c'è uno che sta crossando c'è uno che mi corre vicino preso vai morti e invece e invece è in gas uno è questo qua raga quello di sinistra c'è uno in questa stanza c'è uno dietro oh mio dio wash è per quello che stavo correndo c'è un altro curati lo sei bravo eh ma noi dobbiamo andare in zona cioè ci conviene spostarci e guardarci la schiena vabbè sono andati giù io mi vado a guardare dietro sono andati sono passati giù loro eh mi sa proprio di si mi sparo da più a sinistra wash eccolo in la pittato non cade uno pittato un altro ma dalla smoke tipo? no no più a sinistra si sta della smoke sinistra della smoke tra nord e 15 dal mio bravo wash mi ha dato la kill di quello pittato di nuovo io lo vedo uno sdraiato lo vedo lo vedo c'è sta dietro un albero lo hai tato morto bellissimo è qua davanti raga non avevo capito ditemelo era dietro di me e no e infatti io mi sono girato quando ho sentito degli spari ma non era lui eravamo noi con l'arma silenziale oddio chiamatemi ragazzi dietro ditemi qualcosa mi fermo alla prima casa mi fermo alla prima casa questa qua davanti sul retro mi fermo scendete a sinistra eh se dovete scendere così ce l'abbiamo davanti ce l'abbiamo davanti dio di cuttana ok ho aperto la porta c'è uno dentro oddio l'ho rotto oddio l'ho rotto ho sparato io come mi hai sparato a me ma che cazzo di problemi hai hai chiuso quello wash uno sdraiato nell'erba finito l'ho finito io c'è quello sopra quello sopra vittato due vittato lo vedo lo vedo lo vedo sta correndo in mezzo al nulla ho toccato un altro è in quell'albero lì davanti a noi rega per forza ma spara a me rega non so dove è sparato è morto? è no rega allora c'è uno qua è morto rega guardate è lì è lì è lì davanti a te paura sicuro l'insta kill eccolo qua ho trovato ah vedo l'altro lo vedo oh un bel headshot così lo vedo sotto uno ho fatto un headshot a uno si si io gli ho toccato il tipo guarda muo gliela ammazza muo gliela ammazza ah l'angolo eh che cazzo non lo sapevo non lo sapevo ho toccato uno mi sposto sulla destra lo vedo in mezzo alla strada lo vedi cammina davanti a noi che ne voglia ho preso un altro bravissimo finiscilo è lì dietro lo vedo era l'opper lo cado nice l'altro è uno dei due alberi uno dietro eccolo la preso è shot pure a lui bravissimo wash preso perfetto l'ultimo è davanti l'ultimo albero al limite della safe albero al limite della safe di fronte nord 15 bravi mi avete sparato voi no no avevo sentito qualcosa l'avevo sentito l'avevo sentito l'avevo sentito sto pezzo di merda guardalo guardalo cosa facevi qua non è meglio se torniamo indietro andiamo in safe perché sono 18 persone no no cado c'è un altro è un altro team è un altro team è un altro tutto un altro team questo sta saltando wash dietro l'albero quello l'ho finito subito mi sta rimbendo dei colpi è un team ah 300 uno l'ho fatto c'è un altro qua edu lo vedo alla roccia vittato mi sposto sotto alla roccia un all'albero un all'albero vittato due volte preso alla roccia ora bravissimi mi ha dato la kill giriamoci dietro ora manca il compagno di quello che ho killato io è da me va adesso gg sarebbe bello cioè ci abbiamo ci abbiamo il bello il bello è che ci abbiamo un sacco di allora ecco eccolo questo cos'è successo ma poi perchè solo così hai presente quando mi sono ribaltato con edu eh ecco uguale ma è successa stessa cosa eh ma wash non devo guidare la moto raga cioè no ho guidato io stessa cosa vittato ancora a casa del cecco e da solo vittato noccato noccato a casa del cecco c'è davanti wash fatto no c'è un altro c'è un altro c'è un altro casco all'uno raga c'è uno che corre a piedi l'ho hittato una volta l'ho hittato una volta noccato non è si lascia i colpi dietro voglia sto durando proprio non cazzo di nessuno tirato una canata fermo wash non salire wash non salire ti nocco io ecco oh io però l'ho detto eh stavo andando giù cioè vabbè vabbè voi mi prendete per stronzo però no no e dai capito wash dove abbiamo ucciso quelli di prima toccato uno ok io devo stare fermo vanno toccati due manca quello giallo uno vestito di giallo hittato una volta hittato ancora in testa wash one shot è one shot sempre lì verso 75 tipo c'è un altro bravo lo vedi li vedi stanno correndo hittato hittato ah e stai detto hittato eh raga vedete 7 in più no solo 37 sta all'albero all'alberello ragazzi spara un colpo sull'albero vedete il buco sta là all'albero l'albero edu quello là davanti di fronte alla casa eccolo che picca merda oh bravo noccato cerchiamo un amico quale albero l'albero nella il 105 tipo è attaccato a noi cattato noccato quello nello shak c'è quello nello shak l'ultimo è nello shak apriamoci non trovo shak all lane 360 360 c'è un video qui ha c'è un video qui Grazie a tutti.